Il video è un miraggio o gli occhi mi stanno mostrando almeno 20 crab. Yumi e Lioko non esistono miraggi. Era quello che temevo. A proposito, grazie per averci avvisati, Jeremy. Jeremy? E ora le vostre ferite saranno mortali. Jeremy, sei tu, risponde! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.